Questa è la pista delle Olimpiadi di Pechino e di Londra, sviluppata con la Mondo. La particolarità è questa texture fatta a risofiato per aiutare, oltre che per drenare, ma anche per aiutare gli spike nella fase di spinta, quindi nelle accelerazioni. Lui è Mauro Testa, uno dei più grandi esperti di biomeccanica al mondo. Sono andato a trovarlo dopo aver letto delle sue incredibili invenzioni nel mondo dello sport. Ha centinaia di brevetti internazionali e ha sviluppato una nuova tipologia di pista d'atletica che a Pechino nel 2008 ha portato alla bellezza di 36 record e per la prima volta zero infortuni. La stessa tecnologia è stata usata anche per le Olimpiadi a Londra e vedremo qualcosa di simile anche alle Olimpiadi di Tokyo. Il professor Sandro Testa ha anche collaborato con Floki Sox, creando una calza rivoluzionaria di cui ho già parlato proprio su questo canale. Ma che cos'è la biomeccanica? È l'applicazione dei principi della meccanica agli organismi viventi. In particolare, la biomeccanica analizza il comportamento delle strutture fisiologiche quando sono sottoposte a sollecitazioni statiche o dinamiche. Da lui mi farò un esame completo per capire come posso migliorare come atleta. Vi lascio all'intervista e al mio esame. Buona visione! Simone, benvenuto. Dani ti spiega un po' come funziona il nostro laboratorio. Questo non è né un centro di fisioterapia, né una palestra. Il laboratorio di biomeccanica è costituito in modo diverso. Questa è la zona nostra di reception, vero Dani? Esatto. Alcuni, insomma, le ultime arrivate sono queste calze che abbiamo contribuito a sviluppare e a testare, prodotte 100% made in Italy da un'azienda bresciana. Le run-up che sono state lanciate non soltanto a livello italiano, ma sul mercato mondiale e che hanno diversi concetti innovativi. Qua guardate la capostipite delle run-up, la versione che arriva fino al ginocchio, che ha diverse innovazioni, tra l'altro anche brevettate, alcune delle quali sono compressione massima a livello del mesopiede. Perché è la zona di ritorno venoso. Esatto. È importante. Non la caviglia, non il calf. Comprimere il calf significa fare stenosi, cioè laccio. Non serve il sangue venoso, la stasi venosa è qua. Esatto, perché di calze compressive nel mercato già i nostri amici sportivi ne trovano. protezione del tendine d'Achille e anche questa sorta di tape sul polpaccio che ovviamente lo stabilizza. 23% in più addirittura. C'ha l'antiscivolo che dà più grip, dà più stabilità. Qua troviamo poi alcune delle varie innovazioni che Mauro nel corso del tempo ha inventato e ha tirato fuori nelle sue numerose collaborazioni con diverse aziende italiane e straniere legate al mondo dello sport. Tra tutte vogliamo ricordare, visto che siamo anche in un periodo dove si parla di calcio, di quella che è stata la primissima scarpa da calcio senza lacci al mondo. Fatta a suo tempo da lotto e che tra le varie innovazioni inserite, pensate da Mauro, vi era anche quella del famoso twist and go. L'altra cosa proprio legata al running, danni, è questa scarpa che ha dei concetti innovativi. Qui c'è il reactivar, c'è la prima scarpa che credo al mondo, che non è un difetto della suola, ma che l'arco riproduce, l'arco trasversale, quello che è ripreso dalle teste metatarsali. Le teste metatarsali non sono a contatto col suolo, se sono fisiologicamente corrette, ma creano quest'arco. Questo permette la deflessione, lo scaricamento di quest'arco, con l'immagazzinamento di energia potenziale elastica nella corsa. L'avampiere generalmente lo usiamo a 14 chilometri orali, 5.5 metri al secondo. Quella dovrebbe essere la velocità in cui non usiamo più il tallone. Ma se usassimo il tallone, l'ammortizzamento è stato spostato nella parte esterna per garantire un massimo ammortizzamento, un massimo controllo, e qui c'è il controllo astragalico. L'astragalo è un nosso fondamentale del piede, e sopra il tallone, tra il tallone e tibia, l'astragalo significa controllare pronunzione e supinazione. E la nostra soletta era una soletta con la parte di retina costampata, con lo scarico per le teste metatarsali, anche qui la linea metatarso-falangea che riprendeva quella della scarpa, e guardate, nella parte interna si parlava già di ritorno venoso, e poi ripreso con le calze della Flochi, vedete dove abbiamo messo i pin, vedete questi rilievi, queste specie di rilievi erano proprio in corrispondenza della zona dove noi sappiamo esserci la stasi venosa. Guardate la reattività di questa suola, incredibile, quindi non riusciamo a manco tenerla in mano. Di qua hai tutta la parte di valutazione antropometrica dell'atleta, quindi l'atleta arriva, riempie e compila un questionario. Abbiamo tutta una serie di strumenti, questo ci serve per fare la via, per fare la composizione corporea dal punto di vista del grasso corporeo, questo ci serve per misurare la lunghezza delle braccia, negli sport a catena cinetica chiusa, questo mi serve per vedere con delle luci laser se ho una corretta posizione tibiale, quindi se ho una tibia intra o extra ruotata, da questo punto di vista, quindi riesco a vedere con il laser se ci sono delle intra extra ruotazioni della tibia e quindi se ho una tibia con le rotule extra ruotate o intra ruotate che possono ovviamente determinare carichi alterati a livello del ginocchio. Queste sono pedane baropodometriche che ci consentono di misurare tutto quello che è la parte del soggetto per quello che riguarda i carichi, per quello che riguarda la gate analisi e quant'altro. Questa è una pedana morbida, flessibile, uno dei test che noi facciamo al runner per capire se è instabile o meno da una parte dell'arto, cioè se ha un ginocchio stabile o un arto più più stabile, più coordinato rispetto all'altro, gli facciamo fare, questa è una pavimentazione come vedi, molto instabile, costruita da noi, poi ti farò vedere come è fatta sotto e io praticamente gli faccio fare un affondo, questo modo, il mio soggetto deve stare 15 secondi in questa posizione, quindi simulo il passo, simulo lo step e vado a vedere qual è l'arto tra sinistro e destro in cui c'è più instabilità nella fase di appoggio di landing. Utilizziamo insieme, questa era anche un'altra delle cose che facciamo durante il test del running, in laboratorio all'esterno, questi sono pantaloni elettromiografici, nella parte interna hanno dei sensori elettromiografici che vengono indossati dall'atleta, tu li proverai, e indossati dall'atleta, questi ci consentono di misurare il soggetto sul tapirulan, qui vedi che c'è un tapirulan con delle telecamere per misurare il runner, ne abbiamo una che mettiamo qui laterale, ne abbiamo una che mettiamo davanti e ne abbiamo una in slow motion fino a mille frame per secondi nella parte posteriore. Noi crediamo poco al test sul run, sul tapirulan per il runner, cioè non crediamo che il tapirulan riproduca l'esatta corsa su strada, la corsa su strada non può essere riprodotta da un tapirulan, per due semplici ragioni, perché quando noi facciamo partire il tappeto, il nostro tappeto va indietro, come puoi vedere, quindi la mia estensione dell'anca che è a motivo del gluteo, fondamentale nella corsa e anche nella stazione retta, quindi nell'ortostatismo dell'uomo, è uno dei muscoli posturali più potenti, io sull'asfalto o comunque su un terreno spingo, qui non devo spingere, qui mi porta indietro in automatico la gamba. Non solo, da un punto di vista biomeccanico, quando io atterro nella parte del suolo, ho una fase di decelerazione e questo è ragionevole, perché immaginatevi che questa, anziché essere legno, sia ghiaccio, cioè se io qui avessi del ghiaccio, quando atterro, devo stare attento a non fare così. perché i vettori di forza sono anteriori, quindi ora immaginatevi di avere dei vettori di forza anteriori che sono l'opposto della direzione di movimento del tapis roulant, quindi io ho un aumento delle decelerazioni anteriori, ecco perché mi vengono le unghie nere, ecco perché anche sul tapis roulant la flocchi con l'antiscivolo è un plus pazzesco, ma soprattutto questo ci fa capire che noi non siamo in grado di correre a velocità costante, noi corriamo per accelerazioni ed accelerazioni, questo va a velocità costante, quindi cosa faccio? Metto un soggetto che accelera ed eccelera su un tappeto che va a velocità costante, è una follia, e quindi questo non potrà mai riprodurre la corsa che ho su strada. Allora, wearable technology, tecnologia indossabile, pantaloni abbiamo anche la maglia, dentro il pantalone posso inserire anche il dato accelerometrico, stiamo sviluppando una maglia con biometrica, si chiama SWIMAX, la vedrete prestissimo, per i runner, che ci dice il sudore perso durante la corsa, e mi dice la quantità di sali persi durante la corsa, e lo vedo nel mio telefonino, quindi io corro, ho il mio cardiofrequenzimetro, ho la mia maglia, che mi dice quanto ho sudato, e mi dice anche quanti sali ho perso. Ti puoi sedere su questa sedia molto particolare, anche questa è una nostra modifica, alla sedia Ikea, vedi? Abbiamo fatto delle cose di questo tipo, perché la letteratura ci dice che si sta più comodi sulle sedie che si muovono quando il bacino è instabile, per cui abbiamo modificato la sedia per permettere ai nostri runner, ai nostri clienti, di essere in confort totale, anche nella compilazione del questionario. Ora tu avrai, riempirai questo modulo. Allora, Simone, pratichi running, pratichi da tanti anni, ti alleni sette volte alla settimana, mediamente quanti chilometri fai? Quando sono nel picco degli allenamenti arrivo a 160 alla settimana, altrimenti se non ho preparazione specifica è un centinaio diciamo alla media. Ok, hai subito un trauma alla bandelletta ileotibiale, ci vuoi raccontare? Mi è successo tre anni fa, anche quattro anni fa gravemente, nel senso che mi ha tenuto fermo per un anno perché ogni corsa mi riuscivo a fare l'infiammazione del ginocchio destro e poi mi è risuccesso adesso facendo un'ultima maratona che mi ha dato un po' fastidio anche se devo dire che è passato dopo. Ecco, mi dicevi che hai un'anca sulla domanda l'anca sinistra quindi è l'anca sinistra che ti fa male ok, mentre la bandelletta ileotibiale è a destra. Ti ricordi l'episodio nel quale è cominciato questo tipo di infortunio? E dopo quando ho iniziato a prepararmi per la prima prima maratona. Ok, capito. Quindi una normale è in un normale allenamento. Perfetto, adesso abbiamo un quadro completo della tua situazione non hai disturbi fisici nella vita di tutti i giorni quindi sei tranquillo da questo punto di vista è il tuo primo confronto con un biomeccanico quindi speriamo che l'esperienza per te sia positiva. Ti chiedo ora di toglierti le scarpe e ti metti questa posizione qua e io ti valuto da un punto di vista fisico ok, semplicemente come sono gli appoggi quindi valutiamo a livello di arco plantare com'è il tuo arco plantare la mobilità del primo dito vedo già che hai un dito tutti e due i primi metatarsi tendono ad andare in valgismo qui vedi sia il primo che il secondo poi toglieremo le calze lo vedrai tendono a valgizzare quindi ad andare ad avere una luce valgo una luce valgo non è una bella situazione perché generalmente una luce valgo è una luce che non spinge quindi per quello che riguarda la corsa è invece molto importante avere la luce che spinga andiamo a valutare le pieghe glutee c'è la piega glutea di sinistra leggermente più bassa se ci sono delle evidenti a livello visivo ipertrofie quindi muscoli un po' più grossi dalla parte dell'alto lui ha i polpacci molto sviluppati un po' meno la parte glutea e andiamo a valutare sulle creste iliache se le creste iliache hanno anche loro una caduta leggermente a sinistra l'angolo della taglia destra che è quest'angolo qui è leggermente più chiuso quest'angolo qua e la spalla Dani tu come le vedi metti pure mani giù la palla destra più bassa ok adesso ti chiedo di chinarti toccandoti la punta dei piedi però senza piegare le ginocchia sì c'è un leggerissimo gibo qua quindi c'è una scogliosi a sinistra latero con vesso a destra vieni pure su leggerissimo atteggiamento scogliotico guardiamo i tuoi trapezi per capire se i trapezi hanno lo stesso tipo di composizione benissimo hai problemi alle spalle alle braccia cose di questo tipo no no ti chiedo di fare mezzo passo indietro ora proprio mezzo passo mi fai questo lavoro qua mi vai in affondo e mi stai in affondo con la sinistra sì e poi con la destra ok quindi prima una e poi l'altra qui noi andiamo a vedere se vai in valgismo dinamico ok adesso fammelo dall'altra parte ottimo benissimo da questa parte tendi a valgizzare il valgismo dinamico è questo ed è un atteggiamento che si ha quando si iperprona oppure c'è una debolezza tra il comparto abduttorio e adduttorio della gamba ed è un rischio è un fattore di rischio per il crociato anche nella corsa in discesa quando c'è una tendenza di questo tipo il soggetto può avere la tendenza ad andare in ad avere questa problematica ovviamente qui vediamo se sei più stabile o meno stabile da una parte rispetto all'altra sei muscolarmente molto corto e questa articolazione qui nel tuo caso non funziona benissimo quindi sei particolarmente limitato funzionalmente in questa zona qua e legandolo al fatto che quando noi corriamo le due ali del sacro si muovono ok praticamente le due l'ileo si muove più che le due ali del sacro scusate l'ileo si muove muovendosi l'ileo io ho bisogno che questa articolazione funzioni se no vanno in sovraccarico i muscoli della colonna tu tra l'altro hai anche la muscolatura posteriore non particolarmente elastica abbiamo visto nell'elettromiografia di superficie che lavori molto con gli hamstring tendi a lavorare molto con gli hamstring e come carico abbiamo visto chi sta un po' indietro quindi hai un bacino anteroverso questo favorisce i blocchi dell'anca adesso vediamo se sei dismetrico oppure no sulla gamba di sinistra perfetto vedi che va già in compenso compensa già e su quella di destra perfetto sei un po' più bloccati a sinistra ora mi metti la gamba di sinistra me la metti in questa posizione qui quindi femore in posizione verticale e stendi tutto il ginocchio tenendo il femore orizzontale estendi il ginocchio pensa che dovresti arrivare qua e compensi moltissimo di qua fammelo dalla parte opposta adesso ti chiedo sempre in modo autonomo di portare le punte dei piedi ok tu hai un problema all'anca di sinistra di portare le punte dei piedi in questo modo vai no no gambe giù però ruota ruota più che puoi ok qui sembra che guarda i compensi allora ti tengo giù le ginocchia ok rifallo buono allora in intra-estra rotazione sembra esserci una buona mobilità dell'anca di sinistra adesso lo vediamo nell'altro contesto ti chiedo di mettersi a pancia in giù con le mani sotto il mento pancia in giù mani sotto il mento così bravissimo adesso ti chiedo di portare il ginocchio verso il gomito tira tutto su vai 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 vedo che segno hai una penna Daniele scusate prendo una penna e segno fin dove sei arrivato ok fallo dall'altra parte ok rifarmelo a sinistra rifarmelo a destra perfetto ora se ci alziamo ti puoi alzare e vedrai dove arrivi a destra e dove arrivi a sinistra vedi che c'è una limitazione dell'anca questo lo teniamo per 3 minuti allora abbiamo quadricipite sinistro lavori molto tutto a sinistra iper lavori a sinistra guarda qua quadricipite sinistro hamstring sinistro praticamente la parte destra non la usi utilizzi anche molto il gluteo sinistro quindi tu hai sicuramente un arto più corto un arto dismetrico che è la parte di sinistra quella parte di lì lavora di più della parte destra e vedi sta sviluppando del lavoro muscolare in modo diverso quindi c'è un'alterazione tra la parte sinistra e la parte destra guarda qua a questo punto tu puoi andare a correre tranquillamente quindi avendo visto che c'è una dismetria a destra in questo caso al sinistro è più lungo prova semplicemente aggiungendo una soletta sulla parte proprio più più corta quindi sulla parte di destra quindi sulla scarpa destra metti due solette sulla scarpa di sinistra ne lasci una sola così vediamo se il lavoro muscolare si equipara ed equiparandosi si toglie questo sovraccarico all'anca di sinistra che tu hai percepito l'introduzione 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 Grazie a tutti.